Amici di TuttoAndroid è AcerLiquid Z630S che sta riprendendo queste immagini andiamo subito a fare un controsole, poi andiamo a spostare l'esposizione andiamo a camminare per vedere quanto rimane stabile il video c'è la stabilizzazione software attivabile per questo smartphone avviciniamoci a questa fontana per fare un tap sul display per la messa a fuoco perché non c'è la messa a fuoco continua o se c'è ancora non sono riuscito a farla funzionare andiamo a fare uno zoom, c'è lo zoom fino a 4x anche alla massima risoluzione che è la Full HD per questo video girato dalla fotocamera posteriore da 8 megapixel di AcerLiquid Z630S